A parlarvi di shatsu nella pratica e nella realizzazione di una migliore cultura del sonno c'è la mia amica Emanuela. Benvenuta. Ciao e grazie Mariolina per farmi accomodare qui sul tuo divano. Parliamo di insonnia, questa alterazione dell'equilibrio sonno-veglia dalla quale può derivarci poi un disagio tanto da compromettere le nostre normali abitudini di vita. L'insonnia può avere diverse manifestazioni, cioè possiamo avere difficoltà a prendere sonno, possiamo avere dei risvegli ripetuti oppure dei risvegli ad orari ben precisi. Le cause dell'insonnia possono essere molteplici, escludendo quelle prettamente mediche. Tra le cause dell'insonnia troviamo di certo le preoccupazioni, lo stress, le emozioni intense, un'alimentazione inadeguata o l'intenso esercizio fisico la sera e il rimugineo dei pensieri ossessivi. Nella concezione di base perciò della medicina cinese e delle filosofie orientali su cui lo shatsu si basa, in particolare nel taoismo, alla base della vita c'è proprio l'equilibrio energetico, l'equilibrio di questa alternanza tra le componenti che noi conosciamo come yin e yang e il loro armonico equilibrio.